Yuki Ishikawa, sei stato impietoso contro la tua ex squadra? Sono molto contento di giocare qui, anche una vittoria importante l'abbiamo presa. Ecco, venivate da due sconfitte per 3-1, avevate voglia di riscatto, ma nel pre-gara il vostro tecnico ha detto non mi fido della topovola Cisterna nonostante l'ultimo posto, perché è una squadra che lotta. Però Cisterna ha giocato, ha tornato a Sabi, anche sta tornando a Teri, però è una squadra anche forte, quindi noi massimo attenzione per giocare. Con questa vittoria avete ripreso il discorso della rincorsa in classifica, quanto vale questa Milano? Qual è il vostro obiettivo in chiave play-off? Noi pensiamo sempre come giochiamo, quindi sempre pensiamo a giocare meglio, quindi non c'è niente. Ecco, per chiudere, a metà del primo set eravate sotto 14-10, eravate quasi fuori dal campo. Cosa era successo? Abbiamo iniziato un po' male, però piano piano stiamo tornando, soprattutto è difesa, quindi difesa oggi abbiamo fatto molto bene, quindi è importante che difesa e poi attaccare, attacco. Grazie.